Sì, sì, sì E' da tanto che c'è questa idea perché ovviamente sono due artisti talmente complementari, come se portassero a potenza la forza dell'altro. Ragazzi questi in dieci giorni hanno fatto dieci brani, ma non dieci bozze, dieci brani. Cozzio! Beh, mi sai, ci abbiamo nel disco qua, siamo assicuri. Cazzo, ha veramente paura. Sì, volevo qualcosa di impressionante. La paura tende a impressionare. Ed è sicura? No, è più che sicura. E' a prova di morti. E' stato secondo me molto figo, molto naturale. Cioè è stato un po' come fare una chiacchiera tra amici, no? E questo è quello che è funzionato secondo me, l'atmosfera e il mood. Devi comprendere che stai facendo un progetto che è diverso da quello che fai da solo. E questo devono interiorizzarlo anche gli artisti. Sto in ciabatta e sono Rick Rubin. Tra le stelle come Kid Cudi. Fumo questo e corro sui muri. Prodiccio. E' Cristo che mi segue con lo sguardo fisso. Una mano mi trascina a sé verso l'abisso. Cala il buio se mi eclisso. Camera triplo sei. Vengo senza il vito. Seguo all'ultimo piano di questo hotel infinito. Sento i passi. Vedo ombre. Sento i bassi. Vedo oltre. La gente vibra forte quando tocco certe corde. Suona come un bacio, freddo sulla fronte. Verò il sangue dalla fonte. Uccido il beat, assumo le mie colpe. E ho te Emanuele, ho un fratello. Pensavo meglio? Ma no, ma... Ma solo purtroppo la fanno a francelli. Ora col piatto vuoto stai. Ma non mi ha diseggiato ieri. Benefetti! E il giorno dopo di nuovo in piedi. Ma io dico il groove invece di ste paranoie. Ste paranoie. Però bel testo. Cazzo. L'ho fatto proprio per questo. Ok. No, no, figurati. Io avevo un concerto al Viper Theater di Firenze e Salmo era in apertura prima di me. Di solito arrivi al locale e c'è stata la gente che monta il palco per fare il soundcheck. Perché in quel momento c'era Mauri che faceva il soundcheck. Io già avevo visto lui su YouTube, avevo già visto delle cose e quindi ero già incuriosito. Quindi mentre lui faceva il soundcheck noi siamo entrati e cosa che facciamo raramente ci siamo messi a guardare il soundcheck di Salmo. Dopodiché ci siamo conosciuti poco prima del concerto e insomma eravamo entrambi già un po' fan l'uno e l'altro quindi capito? Ci siamo già beccati propsandoci a vicenda insomma. Stanchi entrambi perché stavamo in tour da un botto di tempo a fare lo stesso set. Abbiamo detto senti invece che suona prima io poi te. Suonamo tipo tutto buttiamo in cacciata un po' io un po' te. I due ragazzi dal nulla decidono di mischiare il live che è una roba difficilissima da fare perché comunque se non le prepari rischi di fare una porcheria. Quello che ho fatto questo live totalmente a sorpresa è in cui abbiamo mezzo diviso il live. Abbiamo fatto mezz'ora, mezz'ora, qualche pezzo insieme, un'altra mezz'ora, un'altra mezz'ora. È venuta una cosa magica e unica, non è stata più ripetuta quella cosa là. Com'è che fai? Se fossi come me, saresti come loro, fossi come me, saresti come loro. In quel caso lì, se ci siamo resi conto che la nostra roba poteva essere affine e poteva funzionare bene a livello di joint album o a livello di collaborazione, capito? E da lì è venuta fuori l'idea di Anthem. Spesso mi chiedo perché ancora lo faccio, rispondo, devo spingerlo in fondo, ritorno allo spaccio. Ho la testa infognata, trovando il corpo nel ghiaccio, con la faccia blu le labbra, vi ho la terra con un laccio a braccio. Falto nido come i sorti sono imbastardito, magic blue come il dancer sono mai colpito. È molto interessante fare un album in due perché uno ispira l'altro, uno fa una strofa fighissima e l'altro cerca di rompergli il culo. Ciao Gianni, metti l'ultima quartina e questa zona qua c'è da slegare. Ah, check, yeah. Non è facile, tutti mi hanno detto che è un po' una lotta, no? Perché devi stare a combattere comunque col gusto di un altro che magari non è proprio il tuo. Allora devi cercare di arrivare a un compromesso visto che stiamo facendo un album insieme. Non ci incontriamo solo a base, un po' a te piace, sì, a me no. Quindi ogni volta trova un accordo nel fai. Però una volta fai un passo tu da lui, una volta fai un passo lui da te e si prendi il disco. A volte dai sempre il meglio, fai sempre le strofe più belle perché c'è un confronto. Perché parti da un argomento, ti confronti, ti misuri, ti rompi il culo e ti sento molto. Io in mani la strofa, mi hai rotto il culo e io devo fare la meditec. È una sfida che da solo non puoi fare. Sì, no? Sì, no? Sì, no? Vai, mi sono andato là. Sì, no? Sì, no? Sì, no? 1-9-7-9. Vieni al mondo noise narcos. Mi ricordi? Sì, no? Sì, no? Sì, no? Sì, no? 1-9-7-9. Vieni al mondo noise narcos. Dio ti chiede buone prove. Oh, che fa? Non posso! Oh, che fa? Bello! Che dici? Buon martire, bro, facciamo una chitarra, due giri. Facciamo oggi questa? Allora, non lo so. Ho due bar sul suo beat che vuoi registrarmi. Eh, tu potresti lo scrivi e cominciare qua. Tu hai preso l'altro beat. E questo è un beat che non mi ha messo la beat. Un po' lo metterò tipo, va bene. È giusto questo, ti ricordi. Sfruttiamo che stiamo insieme. Mi trovi sempre al solito posto, va tutto bene ma niente è a posto. Odio questa gente che mi sta addosso. E tu vorresti essere al mio posto? La mia vita è questa. Kilometri fatti nell'auto di notte contando i secondi. La mia vita è questa. Sai che abbiamo fatto praticamente tutto quello che avevamo in testa? Sì. La creazione di un disco, poi al di là dei momenti delle registrazioni, parte anche di tanta convivialità quotidiana che in ogni caso non è una cosa semplicissima perché comunque unisci e usi abitudini di persone diverse. In realtà poi l'artista e poi ci sono i gruppi di persone dell'entourage attorno all'artista. ed è stato bello invece vedere come ci siamo mossi in maniera corale come una famiglia da subito. Quello porterò con me di questa lavorazione. Il fatto è che abbiamo creato una bella squadra molto molto unita. Oggi la becchi Manolo. Ma sono un po' l'ambiente. Grazie un po'. Prezziamo tu. Poi ti striccio un po'. Oh! Che bastardo! È un po' troppo. Maledetti! 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 Qua dentro è sempre invarno, ho i buchi sull'ombrello, i buchi nel cervello. Ma io ti canterò ancora quella canzone triste, si che rende felice solo te. Ti prego sparci il verbo, come cenere al vento, noi vivremo in eterno. Baby! Baby! Fai il tempo. Baby! One! È un po' fallimentare sulla chiusura. No. Eee! Baby! Baby passa il coltello, ho detto dammela adesso, oppure spacco il cassetto, e tu non vuoi che? Che poi ritorno la notte, tiro pugni alle porte, poi mi spacco le nocche, perché? E questa canzone è triste, io ce l'ho nella mente, scolpita nel teschio dal 2003. Noi ci siamo chiusi per quattro settimane, in due studi diversi, abbiamo vissuto proprio insieme, perché non si può fare un joint album a distanza. Per me non lo puoi fare, però la resa è diversa. La musica è viscerale, la devi vivere insieme, ti devi svegliare, devi pensare solo a quello. A volte le idee e la musica, le idee fighe, vengono fuori quando non stai facendo musica. magari parli con una persona con cui devi fare musica e vengono fuori le idee. Se invece ci vediamo in studio, poi ognuno ha la propria vita, perdi il focus. Invece tu ti devi svegliare e hai una missione, a fare le canzoni. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio, portiamo tutti e due gli occhiali. Dottore, complimenti all'occhiero di te. Maestro, complimenti all'ecchiero di te. di te, di te, di te, di te, di te. E' culto come il corpo di Cristo, ultimo colpo nelle nostre Sex Pistols. Suona forte per le strade questo disco, rimane in testa come una na 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 na. E' culto come il corpo di Cristo, tu sei come Dio, non t'ho mai visto. Suona forte per le strade questo disco, rimane in testa come una na na na. come una na 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 na. Tipo, principio d'infarto, braccio sinistro che... Dove dici? Ti sfrigo. Arriva! Ho buttato lì l'idea, potremmo fare un video con Dario Argento. Si sono subito attivati i ragazzi, sì, facciamolo, 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 l'abbiamo detto ai ragazzi, i ragazzi erano entusiasti. Abbiamo contattato il maestro, lui si è dichiarato mega disponibile, siamo andati a casa sua ed è stato super accogliente, si è dimostrato super curioso e qui ti dimostra la grandezza di un artista, no? Seguitemi. Beh, all'inizio era solo un'idea. Abbiamo detto, ma ti pare che Dario Argento si metta a fare una roba con noi? Dario Argento e tutto il team del progetto. Ciao a tutti, ciao Dario, ciao a tutti. Ciao. Senti, io ho pensato come atmosfera, un po' favolistica, cioè un po' come le favole, colori accesi, tutto il reale. C'è comunque una persona che ha fatto quello che ha fatto lui, che è un'icona mondiale, a una certa età potrebbe anche sedersi e godersi in pantofole, diciamo, la gloria che ha accumulato, no? Invece lui si è messo in discussione, ha voluto ascoltare, è stato curioso, si è andato a vedere i video. Questa volta ci sono tutte le bambole appese e impiccate. Potrebbe essere una specie dei corridovi, una cosa simile. Guardi, possiamo magari sostituire quelle locandine del film. Una locandine del film, certo. Al fine della tua buca, passando le stanze, qua, essendo vetro, era bello che potevamo riprendere anche da di fuori, in modo che vediamo il sangue che schizza sui vetri. Sì, sì, esatto. Bello, bello. E poi, almeno così, ci possiamo mettere con la camera dall'altro lato, in modo che vediamo tutto il sangue che schizza, con il portello che ammazza. Cioè, è stato super disponibile, è super stiloso, e anche sul set, cazzo, una bella macchina da guerra il maestro. Lui che è il set, e si vede comunque due. Lui si vede tutto la viviente, l'oro, e il punto di vista tuo qua, eh. E noi si dice, mazza, qui è come essere in un suo film. Emanuele, ti seguiamo le mani se guardi in macchina. Il fatto che noi siamo riusciti a convogliare Dario Argento in un video nostro, cioè una cosa talmente eclatante, ma a livello mondiale, capito? Per gli appassionati del genere, per gli appassionati dell'horror, per gli appassionati di quella roba lì. È comunque veramente un mostro sacro, come si dice. Maestro, buonasera. Benvenuti, amici miei. E non essere qui. Allora, dovevamo fare una scena molto importante, che è quella della fuga. Con Ionazza abbiamo fatto praticamente le riprese da qualsiasi tipo di angolazione, dall'alto, dal basso, da sotto. e spunta Dario Argento e tira fuori la chicca da maestro e dice la paura è di sbaglia. Nooo! 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 Questo progetto è una cosa incredibile, cioè un incontro fra due mondi, comunque si passano un sacco di anni, però riescono comunque a trovare un punto d'accordo nel 2023 su un disco rap. C'è una cosa assurda, come se ci pensi, capito? Se me lo dicevano dieci anni fa, vent'anni fa, mi sembrava fatta scienza. Stop! Stop! Bella! Molto bella! Poi facciamo una prova registrata, così la vediamo. Sì! Stop! Stop! Oh, questa è bella! Bella! Bella, eh? Bellissima, bella! L'argento, al di là della storia, è tutt'oggi comunque un uomo di 83 anni, porta un'aura con sé di tale cinema che te la faceva sentire in pieno. e loro due l'hanno avvertita da subito. Dietro ogni immagine, ogni inquadratura c'erano ripetizioni veramente... Fino a quando non era contento del risultato alla perfezione, faceva ripetere e ripetere. Loro due sono stati molto bravi ad assecondare questa richiesta. Si è complimentato il maestro con loro, diceva certe volte, lavorare con gli attori è una rottura di palle perché non hanno voglia di continuare a lavorare tesi alla perfezione. Invece loro due si sono misurati con questo progetto con grande dedizione. Per questo è il risultato, secondo me, così forte. Bene, bene, stanno bene. Insomma, siamo attori, però vedrai che gliela ammolliamo e gliela ammolliamo. Salmo più schifato. Quando vedi il corpo più schifato. Durante i dialoghi si partecipava, vedeva, ma gli vedevi brillare gli occhi durante le uccisioni. Là proprio vedevi che si alzava, andava davanti allo schermo e diceva vai, vai, colpiccilo di più. Lo vedevi che proprio là godeva in quei momenti e ha regalato delle perle sul set incredibili. riuscì il sangue dal collo. Sì, sì. Ci vuole vedere un po' di me. Vabbè, sì, sì. Da soli da mettere. Da soli da mettere. Da soli da mettere. Da soli da mettere. Cosa non ce l'abbiamo? La morte di Emanuele, la morte di Noiz. Verrà strozzato con la catenina. Poi gli sfonderanno la testa con un premio del maestro. In ogni horror movie che si rispetta c'è sempre un povero stronzo che muore per prima. Sarà divertente. Dario ha detto che è proprio stretta, stretta sull'occhio, la bocca scende e va giù. E poi c'è il taglio prima che vado per terra. Chiudo l'occhio da sotto, capito? Queste sono le botte che devi beccare. Dobbiamo fare un mega props allo studio di Stivaletti perché sono stati veramente dei king a fare gli effetti speciali alla vecchia maniera, come si facevano una volta, quindi con l'uso di silicone, con l'uso di protesi, con l'uso di sangue, di pompe che spruzzano sangue. Questo è il calco in 3D di Noiz che ci hanno fornito gentilmente per poterci scolpire sopra e ci abbiamo scolpito queste protesi che abbiamo stampato e eccole qui. Io mi sono trovato veramente a stare un'ora e mezza steso per terra con un tubo che gettava sangue che mi passava dietro un collo finto dove mi sono stati riprodotti i tatuaggi che avevo sul collo e in faccia, piano piano, una lenta progressione di colpi che mi venivano inflitti con questo David di Donatello. Terzo step. Durante una riunione di produzione Argento voleva che in qualche modo questo premio diventasse protagonista della scena. Vito sono morto tipo 7-8 volte quindi però mi hanno sempre ho sparato ho accortellato una volta una volta una volta mi sono piccato però ho fracassato Dardavid ancora no e manco ho strangolato tutto qui ancora no. è no c'è chiaro è Dovevo dire che il Noiz la conferma che è un buon attore. Con questo è il trainer. Grazie. Stay three. Oggi sarà il due, eh? Allora faremo un inseguimento. Aiuto! È successo questo incidente alla terza giornata. Il terzo giorno succede un incidente ed era il mio ultimo take per fortuna. L'ultimo take e poi avevo finito il lavoro. Il primo take si avvicina dall'argento e mi fa... Mi mima tutta la scena come la devo fare. Arriva alla porta, batte, si gira sotto la parte teatrale e mi chiede di farla più reale possibile. Io non pensavo che uscisse così realistica. Tu hai partito? Non pensavo di finire dentro il vetro. Sono arrivato lì, ho appoggiato la mano ed è esploso il vetro. Ho tirato dentro il braccio, ho tirato fuori, ho strappato praticamente tutto. Uhhh! Aaaaaaah! Qui per favore! Non so! Non so! Non ti rubi una corda a rimanere! No, io non ti rubi una corda a rimanere! Non ti rubi una corda a rimanere! Si, vabbè! Non lo tieni aperto! Se lo tieni da l'intervento... Tra l'altro l'urlo, l'urlo che ho sparato la gara, era proprio reale! Aaaaaaaah! Maurizio si è rotto, ora vediamo se lo ricuciono. Il sangue c'è stato pure quello vero. Non mi dimenticherò mai che mi sono girato col braccio così, che zampillavo col sangue vero, ed aria argente è rimasto così. Io mi sono spaventato parecchio. Lui ha finito la scena, quando il regista ha detto stop, ha iniziato a urlare. Io mi avvicino, e lì, come, è sbattuto al vetro, che cazzo c'hai da urlare? Mi avvicino, butto l'occhio e aveva il braccio, tipo, in macelleria. Trenta punti. Quindi abbiamo fatto vedere la splatter, come si deve. Ma l'avevo detto, direi oggi sarà dura, ma non pensavo di farlo così. Quando ho levato il braccio dal vetro ho detto ok. Qua mi sono sbragato i tempi. Bene, riprendiamo? Riprendiamo, signori, abbiamo di nuovo Salmo! Ma il maestro mi ha detto, fa la più reale possibile. Lo siamo, con il vetro, lo siamo. Ho spaventato una grande gente. Alla prossima. Tanto sangue, tante ore, tanti caffè, tante sigarette. Mi sa che è una bella, una bella, una bella epocale. Abbiamo fuori, eh. Ti dico, ho lavorato con tanta gente sul numero di sette, ma così niente di fighi di poche volte. Da paura. Aspettate il disco nuovo che è un missile su cazzacci vostri. Se prendi tutti i soldi e scappa Via di qui, non ci avranno mai In fuga con 600k Io con lei, come Bonnie e Clyde Si prendi tutti i soldi e scappa Via di qui, lontano dai guai A fare tutto non mi basta Io con lei, come Bonnie e Clyde Via di qui, lontano dai guai Via di qui, lontano dai guai